Però c'è un appuntamento speciale che vorrei farvi presentare da una persona speciale. Piero Angelo. Eccolo qua. Eh beh sì, qui siamo a casa mia, nella cucina, sarà il pranzo. Questo qui è un angoletto che sempre si vede nelle mie interviste. E allora sì, quest'anno siamo tutti distanziati, però col web si può fare parecchio. Allora, ben trovati i naviganti. In questa nostra rassegna di alcuni degli incontri che sono passati alla CicaFest di quest'anno e vi invito naturalmente ad andare sul canale del Cica, il canale YouTube, dove vi metto il link, dove potete trovare tutti quanti gli interventi che sono passati quest'anno, oltre a molti degli anni passati. Bene, dicevo che oggi iniziamo a rivedere queste quattro chiacchierate che abbiamo fatto con Piero Angela. Oggi parliamo con lui, siamo a casa sua, questa è una cosa straordinaria, e ci racconterà un po' come è nato il CicaFest. Buona visione. Ben ritrovati, qualcosa di molto speciale. Infatti siamo a casa di Piero Angela. Buongiorno a te e ai nostri, non dico ascoltatori, ma sì, in qualche modo lo sono. Grazie per averci accolto in casa tua, Piero. E qui, guarda, è dove viviamo, abbiamo tutto organizzato qua. Le interviste le faccio sempre qui, difatti ormai questi cucchiai, che sono la collezione di mia moglie, sono ormai diventati popolari. Popolari in tv e non solo. È vero, anche sul web, anche tanti interventi che fai sulle pagine Facebook. Sì, sì, c'è tutto qui. C'è la cucina, c'è il sofà, c'è la televisione, c'è il cammino. Hai tutto a portata di mano. Ti volevo dire, noi siamo qui naturalmente all'interno del CicaFest e questa è un po' l'evoluzione che ha attraversato il nostro CicaF, insomma, che ormai ha più di 30 anni. Sì, grazie a te. No, grazie a me, grazie a tanti, ma soprattutto grazie a te. Poi li citiamo tutti. Sì, ma certo. L'artimontale. Torniamo un attimo a quell'epoca proprio, siamo alla fine di che cosa? Beh, siamo negli anni 70. Sì. I più giovani non se lo ricordano, ma allora c'era un programma popolarissimo di Mike Buongiorno che si chiamava Il rischiatutto. E uno, c'è lì di trattare degli ospiti che dovevano rispondere delle domande sulla materia di loro scelta. E c'era un signore, un medico di Bologna, molto simpatico. Si chiamava Inardi, il dottore Inardi, rispondeva a domande su Mozart. Sì. Bravo, certo. E Mike Buongiorno nella presentazione diceva, sì, ma lei fa anche un'altra cosa. E lui era presidente di un circolo di parapsicologia a Bologna. e quindi spiegava la telepatia, gli esperimenti con le carte, eccetera. Io ero un po' sorpreso che, insomma, ci fossero questi, che nella scienza, questo non si è mai... Io facevo già da 7-8 anni programmi di scienza, ho fatto di tutto, anche 5 puntate sul cervello, quindi dicevo, boh, può darsi, può darsi. E allora mi venne in mente di fare un programma dedicato, ma è vero o non è vero? È possibile o non è possibile? Quindi feci 5 puntate sulla parapsicologia, cominciando dal famoso Uri Geller. Che all'epoca era la superstar. Che era la superstar, che naturalmente rifiutò di essere intervistato e controllato, però conosco in quell'occasione James Randi, negli Stati Uniti, che aveva scritto un libro demolitore di Uri Geller, e poi un processo, e poi di tante cose di cui a volte abbiamo parlato. E quindi quando lo incontrai mi disse, ma anch'io so piegare le forchette, so anche, anzi, posso leggere dentro il corpo umano. Ah sì? Lei ha qui dei voucher, che allora si usavano i voucher. E dico sì, aspetti che mi concentro, scrive i numeri di serie, tiro fuori e rispondeva. Allora ha detto, ma io so come l'ha fatto. Hai capito? Io ho capito e gli ho detto, eh, però guardi che la gente non lo sapisce, rimane stupefato. Eh sì. E così cominciate una collaborazione onesta. Ho fatto questi cinque puntati, sono stati in onda con polemica a non finire. Eh sì, mi ricordo. E poi il libro che voi avete ripubblicato. Certo, per il quarantesimo anniversario. Ecco, e che esce, è uscito anche per la collana. Con il Corriere della Sera. E quindi lì abbiamo anche occasione di sviluppare di più questa materia, interroggando, intervistando tantissime persone. E naturalmente venne fuori una cosa completamente scettica. Però dissi, ma la cosa non deve finire qua. In fondo la scienza ha dei paletti. Perché non facciamo una specie di piccola... Un'argine. Un'argine dove qui si sa, là non si sa. Si crede, vabbè, si può credere qualunque cosa. Ma non che si sa. Tra l'altro, all'epoca, la parapsicologia era stata accettata in America dalla gloriosa e antica società per il progresso della scienza. Perché c'era un ricercatore, Rhein, quello delle carte segnate, quelle... Carte Zener. Carte Zener, sulle quali si facevano base statistica, che era un professore universitario. E hanno detto, va bene, una ricerca seria, tra virgolette, nel metodo. Per me, poi, tutto da verificare. E poi si è accorso di aver fatto un errore. E quindi fu, in qualche modo, poi, depennato da questa cosa. Tra molte polemiche. Quindi, insomma... C'era un'atmosfera... Un'atmosfera... E un clima favorevole. A di ogni momento, ora è ovvio, telepatia, non si riesce a capire, a dimostrare. E... E io lo faccio, guardate che... Per niente. Non ci sono evidenze. Tutti questi esperimenti che sono stati fatti, sono pieni di buchi, di falle, di errori, di interpretazioni. Non c'è niente di trucchi. Di trucchi, anche. Fai la telepatia. Facilissimo. Io ho un ferragosto, l'ho fatta con mia moglie in montagna. Lei era bendata a dieci metri. Io andavo in giro, mi facevo dare le carte, ma anche le date... Cazzo di... Di nascita. Sì. Però io dissi, il libro, la cosa non deve finire qui. E in quell'occasione feci una... Scrissi una dichiarazione firmata da una ventina di importanti scienziati italiani nel quale si metteva in guardia l'informazione, la scuola e poi la gente. Sì, guardate che tutte queste cose che vi dicono del... Perché poi c'era, diciamo, la parapsicologia popolare e quella dell'astrologia, della fattucchiera... Tra l'altro con persone che sfruttano... C'è gente che si è svenata a fare le fatture. Insomma, un'operazione culturale, educativa, dove gli insegnanti anche potevano avere un ruolo. E poi da questo... Questa cosa l'abbiamo già raccontata altre volte, ma... Poi sono passati un po' di anni perché all'inizio... Sì, sono passati diversi anni e poi casualmente io ebbi da uno storico della scienza un pacco di elaborati. Mi disse, guarda, sto facendo un po'... Abbiamo fatto fare a vari licei a Milano... Abbiamo chiesto di parlare di filosofia della scienza... Se puoi dare un'occhiata a queste cose lì... C'era di tutto, di più o di meno... Poi c'era uno che svettava proprio... Bravissimo... Sono andato giù a Milano... Era Lorenzo Montale... L'attuale direttore di Querri... Vicepresidente del Cica... Vicepresidente del Cica... E ho trovato questa ragazza... Allora gli ho detto, guardi... Adesso non mi spiaghi... Insomma, partì per gli Stati Uniti... E rimase lì... Vari mesi... Tutta l'estate... Tutta l'estate... Seguendo la... La redazione... Dello Xaipo... Che era appena stato creato... Sì... E quindi... Imparando tante cose... Poi ricevete... Una tua lettera... Che mi dice... Ah, ma io... Qui bisogna fare qualcosa... Ho letto il suo libro... E allora ci siamo visti qui a Roma... Quando era di... Passaggio... E ho detto a Randy... Senti... Questo giovane... Mi sembra... Mi gamba... Stai insieme... Perché lui è andato in giro... In quei giorni... A fare cose... E alla fine... Guarda... Previssimo... Capisce al volo le cose... Che le altre... E dico... Ma lo puoi prendere? Sì... Lo prendo come... Estudi partiti... Per gli Stati Uniti... Tu sei rimasto... Quanto? Sono rimasto un anno... Un anno... Hai imparato tutto... Eh beh... Non solo la prestigitazione... Ma... La mentalità scientifica... È quella... Perché Randy... È una persona... Molto... Preparata... Nella scienza... E... Insomma... Poi sappiamo tutto quello che ha fatto... Tutto quello che tu hai imparato... E poi a Torino... Nell'89... C'è stata questa cena... Dove c'era stato un... Gruppo... Di persone... Abbiamo detto... Ma vediamo... Chi ha abbonato... A questa rivista... Allo Schettica... C'erano 13 abbonate in Italia... Tra cui... Un gruppo di ufologi... Sì... E così facciamo questa cena... Un astrologa... Se ti ricordi... È venuta anche... E c'era un astrologa... E allora... Facciamo questa cena a Torino... E lì c'era... Sergio Della Sala... Sì... Che già si era occupato... Per conto suo... Che aveva cercato... Sede... E che è l'attuale presidente... Del CICAP... C'erano queste persone... Durano nel tempo... Eh vedi... Quanto tempo... Si affezionano... Si... Poi c'era... C'era Steno Ferluga... Che diventò... Il presidente... Il presidente del CICAP... E altre persone che... C'era Aldo... Il marito di Margherita Hac... C'era il marito di... Perché Margherita Hac era... Abbonato... Eh sì... Alla rivista... Ecco insomma... Di lì nacque l'idea di fare... E quindi poi... Voi due... Ma anche Dalla Sala... Certo... E altri... E soprattutto poi col gruppo di... Di Padova... Padova certo... Il marito Franzosi... Eh sì... Ma tanti altri... Siamo riusciti a prendere una sede... Con la colletta... Il tuo aiuto... Abbiamo fatto la colletta... Eh sì... Insomma... E convegni eccetera... Sì... Anche perché... Io ho visto che... In quegli anni... Tra il 78... E il 89... Mi ero molto dato da fare... Ma... Era molto solitaria la mia azione... C'erano alcune persone che mi hanno aiutato... Professore Edoardo Amaldi... Certo... Grande scienziato... Che effettivamente... Lui ogni tanto interviene... Daniel Beauvais... Sì... Premio Nobel... Che era un premio Nobel... Italiano... Di origine svizzera... Che era presidente dell'Istituto Superiore di Sanità... E lui anche ha fatto... Quando gli ho segnalato... Dalle cose... Intervenuto... Ma insomma... C'era questo appoggio... Certo... I scienziati hanno da fare... Si capì lì... Che c'era bisogno di volontari... Per questo... Quando leggi... Questo elaborato di... Di Lorenzo... Di Lorenzo... E quando incontrai te... Sono le persone giuste... E ci avevo visto bene... E mi fa molto piacere... Adesso questo CICAP... È cresciuto... Però... Cari ascoltatori... Siete voi che lo dovete far crescere... Noi stiamo facendo il possibile... Loro soprattutto... Tutti i volontari che ci sono... Che veramente sono tutti straordinari... Io non li posso citare... Certo... Però... Sappiate che... Questa è una on-loose... Cioè nessuno guadagna la lira... Tutti i volontari... Associandovi al CICAP... Cioè... Comperando... Abbonandovi alla rivista... Famigisti... Per pochi soldi... Ormai... Quanto costa? Eh... Con 5 euro... Uno studente può iscriversi... Con 5 euro... Con 5 euro... Uno studente può iscriversi... Chi... Poi chi può dare di più... Chiaramente può fare di più... Ma c'è anche il 5 per mille... Per chi volesse... Non deve spendere niente... E poi... Ecco... 5 per mille... Perché quello lì... Non costa niente... Però è un sostegno importante... L'unico vero introito... Eh sì... Oltre i convegni che... Rendono qualcosa... Ma è tutto lavoro di volontariato... Tu pensa che ci sono le leggende urbane... Che circolano che noi saremmo finanziati... Da non si sa chi... O milioni di euro... Ah sì... Mamma mia... E poi sei qui... Tutta gente... Intelligente... Simpatica... Entrando nel CICAP... Vi divertite anche... Perché spesso sono state divertenti... Soprattutto... Imparate... Cos'è la scienza... Perché... Credo che ne parteremo poi... Ne parleremo, sì... In uno dei prossimi incontri... Io ho imparato molto più... Sulla scienza... Occupandomi di... Pseudo scienza... Che di scienza... Perché... Vedi... Il metodo... E tutti... Gli errori... Le falle... Le illusioni... E anche i trucchi... Che alle volte avvengono... Quindi... Insomma... Credo che il nostro tempo... Il nostro tempo sta giungendo al termine... In questo primo incontro... Sì... Ogni domenica credo... Eh sì... Questa è la cosa bella... Ogni domenica torniamo a casa tua... E quindi... Scrivetevi al 5... Comprate... 5 euro... Di studenti... Un po' di più gli altri... Un po' di più gli altri... Eh... Si può fare... Per tutto il lavoro... Che stiamo facendo... Per il bene comune... Certo... Stiamo cercando di tenere accesa... La fiammella della razionalità... Eh... Questo è... Tenere accesa... La fiammella... Della razionalità... Oggi più che mai... Con tutte le... Le fandonie... Le fake news... Le teorie del complotto che... Ma soprattutto... Anche per tutto il resto... Il nostro paese soffre... Eh... Di mancanza di... Razionalità... In tutto... In tutto quello... E quindi... Associatevi a noi... Non vi pentirete!